Perché restare a Genova? Perché oltre il Mugugno c'è di più, perché restare a Genova per evitare che sia la città delle occasioni perdute, perché Genova merita di più, i genovesi merito di più. Abbiamo la potenzialità, le possibilità, le energie, ma dobbiamo scegliere la nostra direzione. Io credo che oggi Confindustria abbia indicato la strada con un ma, dobbiamo decidere di volerla. Ognuno è responsabile per il futuro, Confindustria sta lavorando bene, Confindustria sta dando l'opportunità anche alle istituzioni di decidere e di intravedere dei percorsi. Non possiamo perdere questa occasione perché tutti vogliamo una Genova, una Liguria più bella dove c'è un'economia, dove c'è occupazione e dove c'è una qualità della vita che merita di essere vissuta. Quindi questo è il motivo per cui si può rimanere e si deve rimanere a Genova con quel dovere dell'ottimismo che il Presidente Dampini sempre ci richiama. Grazie a tutti. Grazie a tutti.